Dall'incubo dei play-out alla realtà dei play-off, questa in sintesi le ultime settimane di Treviglio, che con 5 vittorie consecutive coglie la post-season, dove ritroverà quella Trieste già sua giustiziera un anno fa al termine di una serie equilibrata terminata solo dopo una tiratissima gara 5. La rincorsa dei Lombardi passa per l'innesso di James Frazier, mai sconfitto finora con la canotta della Remer e con ben 27 punti di media partita. La squadra di Vertemati è on fire, i Giuliani sono avvisati. What can I do to make you?